Cari amici, benvenuti sul canale Poetico Savino Tesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Lezioni Morali, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Lezioni Morali perché rodono l'anima certe lezioni morali a qualche finto uomo che fa sempre il galletto per realizzare i propri desideri. Le lezioni morali infondono degli insegnamenti riflessivi, quindi poi non permettono a certe persone di fare i superbi. Le lezioni morali fanno crescere e tramite un tono di sapienza si arriva tranquillamente alla saggezza. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Lezioni Morali. Quanto rodono l'anima certe lezioni morali per il galletto che ama vivere con toni superficiali. Certe lezioni morali infondono insegnamenti riflessivi e certamente spezzano le ali a certi presunti uomini. Le lezioni morali fanno crescere e siamo tutti vivamente invitati a prenderne parte per emergere nei fatti giusti e concreti. Le lezioni morali offrono una cultura ferrea e precisa. Solo pochissimi se ne giovano mentre gli altri vivono alla rinfusa. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.